Ciao a tutti, oggi parliamo di un effetto fisico, la scala di Jacob. Cominciamo con un rocchetto di Rumkopf e con i suoi elettrodi originali e andiamo a fare una scarica, stando sempre molto molto attenti perché le scariche di questo attrezzo sono mortali. Ok, ora andiamo a fare la scarica, avrete certamente notato che la scarica non è lineare ma va un po' verso l'alto, questo perché quando supera la tensione di elettrica l'arco scocca, quando scocca l'arco praticamente si crea una temperatura notevolmente elevata, parliamo anche di 10.000 gradi, anche oltre, quindi l'aria si scalda, scaldandosi l'aria, ovviamente prima di tutto sale perché tende a salire e l'arco tende a seguire questo buco che si crea di aria riscaldata perché a quel punto la rigidità di elettrica scende, quindi l'arco viene agevolato e quindi appunto si ha questa curva verso l'alto, per questo semplice momento. Bene, ho cambiato gli elettrodi, ho realizzato questi due elettrodi a forma di V praticamente partendo da una stampella di lavanderia, è un pochino buio ma mi serve per far vedere bene la scarica. Ora, questa, ve lo faccio vedere un po' meglio, metto qualcosa di scuro dietro così vedete bene come sono fatti gli elettrodi. Come vedete è una sorta di V e agli estremi sono leggermente stondati perché qui deve terminare la scarica. La scarica comincerà qua giù in fondo perché è un punto più vicino tra gli elettrodi e quindi agevolata. Nel momento in cui la scarica scocca, si scalda, tende a salire l'aria calda e la scarica preferisce passare all'interno dell'aria calda perché c'è una rigidità di elettrica minore. Poi si estingue. Vogliamo vederla? Metto sempre qualcosa di scuro dietro così l'effetto è più evidente. avrete certamente sentito un disturbo sull'audio. Questo perché le onde elettromagnetiche messe da rocchetto e da relativa scarica generano appunto un campo elettromagnetico di disturbo, disturba tutto ciò che circonda l'esperimento. Questa è un po' la dimostrazione dell'emissione di onde elettromagnetiche da questo strumento che è poi quella che è stata la base degli esperimenti di Hertz e dei successivi esperimenti di Guglielmo Marconi. È un effetto scenico notevole, non ha utilità se non quella del laboratorio, però ha trovato sfogo nel cinema. Poi all'inizio con il film che ha aperto diciamo la strada ai film di fantascienza, quindi parlo di Metropolis, di Chris Lang, ma anche la trilogia di Frankenstein, quella di con Boris Karloff. Ecco, in quella serie nel laboratorio del dottor Frankenstein, mentre lo stesso cerca di dare vita alla sua creatura con le scariche dei fulmini. Si vedono sullo sfondo, insieme a bobine, volmetri, amperometri, interruttori a coltello, si vedono anche una o più scale di Jacob. Ricordando che il secondo film della saga, quindi La moglie di Frankenstein, quel laboratorio che si vede lì è lo stesso identico laboratorio che è stato utilizzato da Mike Brooks per il suo favoloso Frankenstein Juno. È lo stesso, laboratorio. Quindi anche lì si vedono le scariche di Jacob. E peraltro è un pezzettino che io ho usato nella mia sigla. Io adoro quel film, ne adoro tanti, ma quel film lo adoro veramente. Bene, io vi ringrazio, ci vediamo al prossimo video e buon anno. Ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti.